La mia popolazione ha fatto disposto il divieto di uscire da casa, se no per esigenze lavorative autocertificabili o per esigenze indifendibili, come la consegna di Zede che vittà, potrezzarmanci a persone in possibilità, adossi in casa, o per la diversa, 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 o per la diversa. La mia popolazione ha fatto disposto il divieto di uscire da casa, se no per la diversa, o per la diversa, o per la diversa.